siamo live con Irene Zanier per parlare del nostro ultimo corso di questo 2023 tra l'altro faccio anche un piccolo annuncio sabato 25 alle 18 e 30 avremo Irene dal vivo in libreria che ci parlerà del suo calendario e dell'agenda astrologica del 2024 che ce l'hai lì? Ce l'hai da far vedere? Eccolo lì, così sarà anche una bella opportunità per parlare di quello che ci succederà, di quello che potrebbe succedere nel 2024 sperando che sia un anno bisestile un pochettino più sereno dell'ultimo anno bisestile che abbiamo passato ma non ci vuole molto perché posso direi proprio di no ma veniamo a noi in quest'ultimo corso del 2023 parleremo di Nettuno e Plutone con una formula un pochettino differente rispetto alle altre perché parleremo di due pianeti in un solo corso ma adesso Irene vi spiegherà bene il perché di questa di questa decisione. Va Irene raccontaci bene che così almeno è tutto chiaro per tutti. Allora ciao Igor e ciao a tutti. Allora sì faremo un corso quindi a quattro appuntamenti come al solito chiaramente per quanto riguarda Nettuno e Plutone avendo una tempistica di orbita più lunga e stando quindi molti anni in un singolo segno e coinvolgendo una vasta corte di persone con appunto Nettuno e Plutone nel medesimo segno e prassi ormai a meno che non si faccia astrologia mondiale quindi non si vada a vedere quello che è l'influsso sulla collettività e prassi considerare maggiormente il posizionamento dei pianeti per casa astrologica. Chiaramente nel corso della lezione andremo a vedere anche quello che è il posizionamento dei viventi quindi quelli che sono i segni che sono delle varie generazioni appunto coinvolte e faremo una introduzione della simbologia sia di Nettuno che di Plutone in due momenti differenti che sono appunto a dicembre il 5 e il 12 dicembre per quanto riguarda Nettuno e poi ci reincontreremo a gennaio il 9 e il 16 gennaio per quanto riguarda Plutone perché si tratta di pianeti particolari innanzitutto perché hanno a che fare con il collettivo e con l'inconscio collettivo sono stati scoperti in un'epoca anche di risveglio per quanto riguarda Nettuno di risveglio spirituale e per quanto riguarda Plutone anche di risveglio di quelle che erano le potenzialità distruttive dell'essere umano e riguardano quindi temi che sono letteralmente archetipali e collettivi quindi ombre e luci con cui il collettivo sarebbe bene che si confrontasse Nettuno scoperto nel 1846 quindi siamo un po' di tempo fa siamo in pienissima epoca di meccanicismo e di utilizzo sempre più massiccio delle macchine per quanto riguarda la produzione a cui è corrisposto a un certo punto una sorta di disincanto di quanto la macchina poteva fare ebbene sì non è un qualcosa che sta accadendo solo adesso ma proprio anche l'epoca in cui è stato scoperto Nettuno si sentiva l'esigenza di ritornare quasi a un neoromanticismo e a un neospiritualismo che è stato poi stato che è venuto alla luce attraverso l'interesse sempre più massiccio verso quelle che erano le religioni orientali verso quello che era l'occultismo l'esoterismo lo spiritualismo 1875 abbiamo anche la fondazione da parte della Elena Petrovna Blavatsky della società teosofica quindi Nettuno è tutto questo movimento quindi ha a che fare con la trascendenza fondamentalmente e il contatto dell'essere umano con ciò che è altro da sé e che è profondamente contenuto nel mondo dell'inconscio e anche il divino che chissà se è dentro o fuori per quanto riguarda Plutone invece siamo al 1930 abbiamo la nascita alcuni anni prima o meglio la scoperta o secondo quanto direbbero alcuni l'ipotesi dell'esistenza dell'inconscio perché se lo chiede i comportamentisti ovviamente non è una scoperta ma è un'ipotesi e abbiamo anche l'indagine sull'infinitamente piccolo attraverso la scoperta appunto dell'energia atomica siamo in un'epoca assolutamente di rivoluzioni dal punto di vista di quello che è possibile fare a livello di distruttività quindi noi con Nettuno e Plutone veramente tocchiamo quelli che sono due apici appunto all'interno dell'anima e delle potenzialità e quindi questo è ciò di cui parleremo come sempre i corsi di Aretusa Academy e ovviamente quelli di Irene non fanno eccezione sono disponibili in diretta streaming per chi si iscrive per tempo dopodiché sia per chi si iscrivesse in un secondo momento ma anche per gli iscritti stessi ci sono poi le registrazioni che vengono messe a disposizione insieme alle slide alle dispense che Irene produce all'interno dell'area riservata del sito della libreria quindi chi segue il corso magari si vuole rivedere la lezione in un secondo momento oppure per qualche motivo se la perde partita la corrente o il gatto ha vomitato sul computer ed è esploso dall'indomani mattina dall'indomani un paio di giorni al massimo io carico il video della lezione che resta a disposizione degli iscritti e anche per chi scoprisse questo corso soltanto in un secondo momento può acquistarlo nella versione on demand di nuovo attraverso il sito della libreria e quindi ci siamo detti abbastanza tutto il modo in cui sono organizzate le lezioni quindi per quanto riguarda Nettuno due lezioni nel corso della prima lezione faremo proprio quello che è il momento della scoperta quello che era il quadro storico attorno al momento della scoperta come facciamo per tutte le nuove scoperte astrali mentre nella seconda lezione andremo a vedere il posizionamento di Nettuno nelle case astrologiche quindi nelle 12 case astrologiche che è il modo più personale con cui noi possiamo entrare in contatto con il pianeta va da sé chiaramente che se una persona ha un Nettuno importante nel tema congiunto al sole alla luna diventa doppiamente sentito però già con il posizionamento per casa astrologica possiamo dire qualcosa allo stesso modo faremo esattamente la stessa cosa con Plutone quindi la simbologia di Plutone, la differenza astronomica tra pianeta e pianeta nano quindi andremo a riprendere poi anche diciamo il riflesso in Ceres che è un pianeta nano alla stregua appunto di Plutone e nella seconda lezione andremo a vedere appunto il posizionamento di Plutone nelle 12 case astrologiche una cosa che mi facevi venire in mente parlando del momento in cui mi è venuto il click adesso che hai nominato il pianeta nano la cosa che dicevi anche nella prima lezione corso surano e che hai ripetuto anche oggi del momento storico della scoperta del pianeta Igea che è la dea della medicina attraverso l'igiene da cui appunto deriva la parola igiene figlia di Asclepio non è stata scoperta nel 2020 ma nel 2020 o fine 2019 ha avuto la dignità di pianeta nano e quindi è saltato agli onori della cronaca questa cosa qui dell'igiene della medicina esattamente nel momento in cui iniziassimo a detergerci mascherarci tutto quanto è pazzesca questa cosa delle coincidenze temporali dei momenti storici dei passaggi dei pianeti delle scoperte o del della consapevolezza poi tra l'altro per quanto riguarda Igea Igeia noi abbiamo a che fare comunque con un'immagine archetipica strettamente connessa anche a Atena che era un'altra divinità comunque connessa all'arte della medicina quindi più che la medicina nel senso quindi in realtà ce ne sarebbe molto molto da dire comunque molto interessante questa cosa mi era passata proprio proprio di vista questa cosa quindi aggiornerò e metterò anche Igeia che so esserti particolarmente cara anche perché il mio bisnonno medico che andava in giro per le campagne ad insegnare alla gente che magari se non dormivano nella stalla con le vacche era anche più facile evitare quelli che noi oggi sappiamo chiamarsi spillover si chiamava Iginio ah ecco guarda un po' no men o men con il concetto di igiene nel suo nome che andava a fare igiene nelle campagne e andava a fare la gente a fare educazione fondamentalmente esattamente sì quindi vedremo cos'è un pianeta nano e perché parliamo di declassamento anche perché per non mi ricordo per 2006 2006 come c'è la battaglia no tra gli astronomi europei gli astronomi americani sulla classificazione di Plutone Plutone è stato declassato è certo dal 2006 Plutone ha perso lo status di pianeta per noi astrologi siccome consideriamo tutto consideriamo pianeta anche la luna quindi per noi cambia ben poco però effettivamente noi abbiamo una riclassificazione di Plutone proprio perché non rientra in alcune caratteristiche che sono caratteristiche astronomiche restando fermo comunque quello che è il valore archetipale che astrologicamente è quello che a noi interessa un po' di più eh sì bene allora abbiamo fatto questa chiacchierata anche con digressione su Igeia che non c'entrava niente con l'argomento di Odio ma noi l'abbiamo messa lo stesso sapete com'è noi qui si chiacchieramo volentieri e bene quindi nel corpo del post troverete anche tutte quante le indicazioni con il link che manda la pagina con le informazioni tecniche pratiche burocratiche il corso sarà ripetiamo le date il 5 il 12 dicembre facciamo Nettuno e poi il 9 il 16 di gennaio facciamo Plutone come sempre dalle 8 alle 10 e come sempre a partire da 1 o 2 giorni dopo la lezione sarà disponibile la registrazione delle stesse grazie a tutti per l'attenzione grazie Irene e ci vediamo per chi riesce venerdì 25 di novembre alle 18 e 30 qua in Liberia a parlare dell'agenda del calendario e del cielo del 2024 di persona di persona dal vivo e solo dal vivo esatto grazie a tutti ciao ciao